Musica Nella chiesa di Calcinelli l'addio commovento a Don Giuseppe Monaco ricordo dei fedeli la tua vita resterà l'umilia più bella che ci hai lasciato Ubriaco picchia la moglie con un bastone, lei denuncia anni di violenze e lo fa arrestare Tamponi a scuola, a partito oggi lo screening a Pesaro per alunni e personale scolastico l'adesione ha superato l'80% Il virus ferma le danze, scuole di ballo chiuse da mesi prosegue la battaglia di chi chiede di riaprire in sicurezza per sopravvivere Sono sentimenti tristi perché non riusciamo a capire come mai non si riesca a trovare la giusta misura per riuscire a galleggiare Grazie al governo italiano e a Conte io chiudo il bar la rabbia del noto pizzaiolo pesarese costretto a chiudere l'attività per le restrizioni imposte dai decreti anti-covid Non dovete avere paura di chiudere, lo so che è un parolone brutto ma state a tenere da me, non fate debiti per il governo a tenere duro teniamo duri tutti, come si dice Tembota però non vi sentite sconfitti se dovete chiudere perché è meglio per il vostro futuro Illuminazione ad hoc, filo diffusione continua è un concorso con foto e video per raccontare la città illustrati i nuovi progetti del comune di Fanno a supporto delle attività economiche locali Sogniamo insieme, siamo uniti e apprezziamo la nostra città tra poco dopo il telegiornale il video firmato dal regista fanese Henry Secchiaroli dedicato ai momenti vissuti durante il Natale e al senso di comunità Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Oggi pomeriggio nella chiesa di Calcinelli è stato dato l'ultimo saluto a Don Giuseppe Monaco Il rito funebre è stato trasmesso in diretta su Fanno TV è stato ufficiato dal vescovo Armando Trasarti Il servizio di Letizia Marchionni con le immagini di Filippo Pucci Un padre, un fratello, una guida, un amico con il quale gioire, confrontarsi e crescere Viene ricordato così dai fedeli membri della comunità di Calcinelli il loro parroco Don Giuseppe Monaco durante il funerale celebrato oggi alle 15 nella chiesa di Santa Croce ed ufficiato dal vescovo della diocesi di Fano Fossombrone, Caglie e Pergola, Armando Trasarti Nato a Villa Chiara il 29 novembre 1948 ed ordinato presbitero il 5 giugno 1976 Don Peppe si è spento all'età di 72 anni lo scorso 25 gennaio all'ospedale San Salvatore dove era ricoverato per coronavirus Un sacerdote dai modi all'apparenza severi ma che nascondeva un cuore buono, generoso ed amichevole e che lascia una comunità a lui profondamente legata da sentimenti di affetto e gratitudine che si stringe attorno a sua sorella annunciata Maria che viveva al suo fianco nella casa parrocchiale Ti ringrazio per tutto il bene prego per i nostri genitori, ciao Presenti alla cerimonia per salutare l'amato parroco oltre a tutta la comunità di Calcinelli anche Stefano Aguzzi, ex sindaco di Colli al Metauro ed Enrico Rossi, primo cittadino di Cartoceto La sua perdita è stata un duro colpo ha poi affermato Andrea Giuliani, sindaco di Colli al Metauro Siamo contenti oggi di aver avuto qui con noi tanti fratelli sacerdoti, il livescovo le autorità civili, militari per stringersi attorno a questa comunità che oggi è veramente triste Perdiamo un amico, un fratello oltre che un parroco e un pastore di una comunità e auspichiamo che il vescovo trovi presto una soluzione per questo territorio perché questa parrocchia ha dimostrato fin dagli anni 90 di essere una parrocchia capace di svolgere un ruolo trainante Te ne vai come usavi fare spesso lasciando la festa prima che fosse finita sbattendo le tue mani sul tavolo e scrumando ecco, come a dire, tutto è compiuto mi ha dato ciò che potevo ora è andata avanti senza di me questo maledetto virus ti ha portato via troppo presto ma non abbastanza per impedirci di godere di quell'amore che va oltre, come dici tu nel Vangelo è scritto in verità vi dico ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi, i miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me noi abbiamo la certezza, Don che sei salito in cielo e che il Signore ti abbia riconosciuto ed abbia visto in te tutti i cuori delle persone che hanno sperimentato la carità delle tue opere la tua vita resteranno a Maria più bella che ci hai lasciato ciao uomo giusto veglia su di noi e poco fa abbiamo preso la triste notizia della morte di Fortunato Seri il papà del sindaco di Fano in segno di rispetto e di vicinanza sono state annullate tutte le conferenze stampa in programma per domani così come la seduta del Consiglio Comunale rinviata a data da destinarsi al primo cittadino e alla sua famiglia ovviamente le più sentite condoglianze della redazione di Fano TV ha trovato la forza e il coraggio di denunciare anni di botte violenze fisiche e psicologiche la donna che sabato scorso si è presentata all'ingresso del comando provinciale dei carabinieri di Pesero Urbino i militari dopo aver raccolto la sua testimonianza hanno fatto scattare il codice rosso per le vittime di violenza di genere la donna aveva subito anche umiliazioni e limitazioni di ogni sorta fino al punto di non potersi muovere liberamente né di vedere i figli e un nipotino nato da poco nell'ultimo episodio il marito l'aveva picchiata con un bastone di legno sotto i fumi dell'alcol le aveva sottratto il cellulare per impedirle di chiamare i soccorsi la procura della Repubblica ha assunto le indagini e ha chiesto immediatamente la misura cautelare dell'uomo che continuava a minacciare la moglie lei invece è stata portata in un luogo protetto dai carabinieri che l'avevano ascoltata in quella drammatica notte ieri l'autorità giudiziaria ha concesso la misura cautelare della custodia in carcere i militari del nucleo investigativo hanno rintracciato e arrestato il marito l'uomo è stato portato a Villa Fastigi e ancora cronaca i vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio intorno alle 15 in via Leonardo da Vinci a Calcinelli di Coglie al Metauro per all'incendio di una Smart il conducente ha notato del fumo mentre era a bordo della vettura nel cortile del suo deposito auto ha accostato il veicolo che poi si è incendiato e ha chiamato i soccorsi sul posto i pompieri di Fano che hanno spento le fiamme causate probabilmente da un guasto elettrico oppure dal surriscaldamento del motore l'uomo residente a Bellocchi ne è uscito illeso ma l'auto è andata completamente distrutta alta affluenza oggi per i tamponi di masta promossi dal comune di Pesaro per gli studenti e per il personale scolastico vediamo allora come è andata questa prima giornata di screening nei prossimi servizi che sono stati curati da Angelica Panzieri siamo al campus scolastico qui questa mattina è partita la grande operazione di screening sugli studenti avviata dal comune di Pesaro saranno coinvolte 367 classi ed oltre 8.000 studenti una cosa è certa l'adesione allo screening di massa organizzato dal comune di Pesaro per studenti e personale delle scuole superiori nel primo giorno di avvio delle operazioni è stata altissima nonostante fosse su base volontaria questa mattina il servizio è partito in contemporanea al campus Santa Marta e Mengaroni ad effettuare il tampone anche l'assessore comunale Mila della Dora che ha parlato di grande partecipazione ci fa piacere perché ricordo che sotto i 16 anni non sarà possibile fare il vaccino quindi il tracciamento resta sicuramente una delle misure fondamentali per contrastare il coronavirus il mio augurio è che questa operazione si possa ripetere anche nelle prossime settimane magari in sinergia con la regione Marche noi ci siamo e vogliamo continuare su questa strada in campo per la grande operazione di prevenzione promossa dal comune assieme ad Ail, Pesaro, Croce Rossa, Protezione Civile, Aspes e Provincia 35 tra medici e infermieri ed altri 50 volontari tra Croce Rossa e Protezione Civile soddisfazione anche da parte di Riccardo Rossini preside del liceo scientifico Marconi che ha seguito le operazioni all'interno della palestra della scuola dalle prime ore del mattino una decisione che uscita tra 80 e 90% a seconda delle classi e molti di ragazzi che non hanno partecipato sono degli sportivi che lo fanno tutte le settimane quindi ritengono inopportuno ripetere l'operazione questa è un'operazione da fare per garantire sicurezza all'interno delle aule all'interno della scuola noi abbiamo chiesto sempre tre condizioni importanti la vaccinazione per il personale della scuola over 45 abbiamo chiesto lo screening di massa e lo stiamo facendo in questo momento e abbiamo chiesto un tracciamento sicuro che possa isolare coloro che sono positivi lo screening sarà ripetuto domani venerdì 29 gennaio dalle 8.30 alle 13.30 al campus Santa Marta e Mengaroni negli stessi siti è in programma anche il secondo turno previsto per il 2 febbraio mentre il 3 febbraio oltre al campus e Mengaroni si terranno i test anche al Cecchi un'operazione che dovrebbe essere stesa a tutte le scuole marchigiane insiste il consigliere regionale Andrea Biancani che questa mattina ha voluto assistere all'avvio dello screening noi riteniamo che questa deve essere una priorità il rientro, se da una parte il rientro dei ragazzi in classe è una notizia veramente molto positiva perché i dati ci dicono che stava aumentando di molto la dispersione scolastica e inoltre i ragazzi fanno veramente difficoltà a seguire questo rientro deve essere garantito in sicurezza in sicurezza a tutti i ragazzi delle Marche quindi non solamente in alcune città perché questa è un'attività che la regione deve comunque garantire noi continueremo a sostenere questa cosa vogliamo che vengano fatti gli screening per la sicurezza in tutte le scuole delle Marche ma soprattutto abbiamo fatto anche una serie di altre proposte qualora la regione non riuscisse a farlo nelle scuole potrebbero essere fatte nei punti drive punti drive dove attualmente le persone si stanno già rivolgendo oppure dal proprio medico di base oppure facendo le convenzioni con le farmacie con i laboratori o meglio di soluzioni ne abbiamo individuate tante Questa mattina avete fatto il tampone, com'è andata? Dai, bene! Il motivo per cui l'hai fatto? Perché se sono positiva vorrei evitare di attaccarlo a qualcun altro Ho persone anziane in casa quindi per prevenire l'ho fatto Il ritorno a scuola è avvenuto in sicurezza? Siete contenti? Sì, anche io l'ho fatto perché ho avuto mio zio che è stato male per molti mesi e visto che sono anche dai miei nonni quotidianamente volevo farlo per essere sicura di stare con loro al meglio È un'offerta gratuita e poi è sempre meglio prevenire che curare Io ad esempio ho fatto il tampone perché mio padre ha dei problemi respiratori perciò se risultassi positiva vorrei un secondo e avere una sicurezza e stare lontano da lui per non attaccargli nulla Ho fatto il tampone per essere sicuro di essere negativo perché a casa ho anche i nonni e vorrei non attaccargli il covid Soprattutto per tenere in sicurezza i miei compagni di classe ritornare a scuola e imparare in sicurezza e anche per tenere in sicurezza i miei genitori Come è andato il rientro a scuola? State tutti distanziati? Si sono organizzati bene? Sì, si sono organizzati abbastanza bene quindi sì, adesso per esempio in classe siamo distanziati fra i banchi e quindi si è riuscito a ritornare un po' vicini il più vicini possibile alla normalità E anche oggi nelle Marche si conta un alto numero di decessi con covid-19 Nelle ultime 24 ore sono morte 13 persone di cui 7 della provincia di Pesero-Urbino I nuovi positivi sono 429 di cui 86 in provincia di Pesero-Urbino quella più colpita però rimane Ancona Negli ospedali ci sono 5 ricoveri in meno per coronavirus I pazienti in terapia intensiva sono 70 mentre quelli in semi-intensiva 150 Continua la battaglia delle scuole di danza chiuse da mesi a causa della pandemia Oggi a lanciare un appello è un maestro di ballo un maestro di Lucrezia di Cartuceto Le palestre sono sicure, ci ha spiegato Matteo Fateci lavorare per sopravvivere Non riusciamo a percepire, a capire come mai alcune situazioni possono rimanere funzionanti e in piedi mentre noi siamo stati appunto costretti a chiudere e penalizzati a non finire Ci sono troppe disuguaglianze per Matteo Grottaroli Ad oggi senza lavoro né contatto umano con i propri allievi Gli insegnanti delle scuole di ballo sono fermi da mesi Il virus ha bloccato le danze e nonostante le ingenti spese sostenute per mettere a norma tutti i locali non si vede ancora la luce in fondo al tunnel Una volta che finalmente ce l'avevamo fatta ci hanno proprio tagliato la testa lasciandoci a piedi senza logicamente manco riavere un rimborso, riavere degli aiuti cercare in qualche modo di comprendere questa situazione Quindi sono sentimenti tristi perché non riusciamo a capire come mai non si riesca a trovare la giusta misura per riuscire a galleggiare Dopo tutto quello che abbiamo fatto abbiamo la certezza che le nostre sale il lavoro che facciamo probabilmente sono tra gli ambienti più sicuri in assoluto Dopo una spesa complessiva di circa 3.000 euro sostenuta insieme alla collega e titolare Valentina Berloni Matteo ci assicura abbiamo fatto il possibile per rispettare tutti i decreti che si sono susseguiti dal mese di marzo L'insegnante lo scorso anno aveva deciso anche di lasciare l'attività nelle altre palestre di concentrarsi soltanto in questa perché è spaziosa e facilmente gestibile in modo tale da allinearsi alle norme anticontagio Termoscanner e autocertificazione all'ingresso gel igienizzante per mani e scarpe bolline a terra per il distanziamento interpersonale e addirittura mascherine realizzate per gli allievi ma mai consegnate perché da un giorno all'altro il governo li ha fatti chiudere di nuovo Abbiamo visto che è possibile lavorare in sicurezza perché pensate che una persona adesso per entrare in qualsiasi centro commerciale scende dalla macchina passa dalla porta d'ingresso prende il carrello e magari neanche se lo mette il gel nelle mani lo stesso carrello ad esempio potrebbe essere preso da una persona anziana dopo e poi magari si porta le mani al viso senza farci caso e il virus potrebbe passare qua da noi una cosa di questo tipo non accade noi obbligati e volenterosi nel fare appunto rispettare queste regole la palestra diventa assolutamente questa come tantissime altre uno dei luoghi più sicuri quello che si potrebbe fare quindi sarebbe appunto la nostra proposta è fare un piccolo passo indietro tornare a lavorare con il minimo indispensabile per cercare di sopravvivere perché è impensabile in questo momento riuscire a immaginarsi di tornare a breve ai numeri di prima per carità ma almeno tentare la sopravvivenza applicando queste regole meticolosamente e essendo anche magari controllati che ci sia un organo che giri all'interno delle strutture e dica questa non è adatta, questa invece sì e quella adatta magari la facesse lavorare con dei numeri questo è il discorso così pian piano cominciamo a ripartire perché viviamo nella sensazione di abbandono più totale a Pesaro invece abbiamo raccolto la testimonianza e la rabbia di un noto pizzaiolo che a causa del covid ha dovuto chiudere il suo bar appeso un cartello fuori dal suo locale grazie al governo e a Giuseppe Conte io chiudo il bar Maurizio Ralli, storico pizzaiolo pesarese da un anno possedeva anche la gestione di un bar in via Contramine pieno centro storico di Pesaro annesso alla sua pizzeria stremato dalle continue restrizioni imposte dai vari decreti del governo lunedì scorso ha deciso di abbassare definitivamente le serrande e di riconsegnare le chiavi al proprietario del locale ora Ralli che nel settore della pizzeria vanta un'esperienza lunga 40 anni continuerà a sfornare le pizze assieme alla figlia e alla moglie ma la rabbia monta le parole sono poche niente aiuti niente ristori niente di niente il bar era un barrettino giovane appena un anno dopo tre mesi è arrivato il coronavirus e per carità del coronavirus però ho dovuto chiudere se non mi aiuta nessuno bollette, operai tutto io ho detto i debiti per lo Stato non li faccio ho chiuso e basta però il bar di là è da pagare per cui ho nella spalla 30.000 euro da pagare nelle spalle ok l'epidemia c'è capisco tutto ma noi abbiamo bisogno di aiuto di aiuto perché si parla sempre di bar e ristoranti pizzerie ci sono anche le pizzerie non c'è solo i bar e i ristoranti le pizzerie sono in difficoltà prima almeno la prima volta questi 100 euro di qua di là adesso cosa abbiamo avuto niente siccome che noi lavoriamo con l'asporto loro pensano che ci è sufficiente non è sufficiente è un minimo dell'incasso io di là pagavo 1000 euro al mese più l'operaia più le bollette più tutto ho detto a un carissimo amico che fa il muratore vieni tiriamo sul muro queste sono le chiavi arrivederci e grazie ho sempre fatto successo ho sempre avuto successo per i miei 40 anni per la mia passione che ho per la pizza e per questo lavoro ma poter chiudere per non causa mia per cui non per un mio mancato per sbaglio mio ma per gli altri di notte non dormo mi dà proprio fastidio e l'appello con voce mista tra delusione rassegnazione lo fa direttamente ai suoi colleghi non dovete avere paura di chiudere lo so che è un parolone brutto ma state retta a me non fate debiti per il governo a tenere duro teniamo duri tutti come si dice Tembota però non vi sentite sconfitti se dovete chiudere perché è meglio per il vostro futuro e un anziano di 74 anni è stato investito oggi pomeriggio alle 18.15 mentre stava attraversando le strisce pedonali in via Le Gramsci a Fano l'altezza di via Garibaldi nell'impatto con un Mercedes Vito di colore nero l'uomo è rimasto gravemente ferito sul posto il 118 che lo hanno trasportato a Santa Croce i vigili urbani per rilievi di legge è stato rimorchiato verso lo scalo di Alagio e messo a terra questa mattina intorno alle 10.30 al peschereccio semi affondato nella prima mattinata del 26 gennaio forse a causa di un trafilamento d'acqua che ne ha compromesso la galleggiabilità ieri pomeriggio erano partite le operazioni coordinate dalla guardia costiera di Fano per il recupero dell'imbarcazione e la pulizia dell'acqua dal gasolio fuoriuscito questa mattina invece si è proceduto con la messa a terra e la rimozione del natante nei prossimi giorni partirà l'inchiesta per indagare sulle cause dell'accaduto cambiamo argomento il comune di Fano ha presentato due progetti per supportare le attività economiche locali sentiamo di che cosa si tratta i momenti più difficili sono quelli in cui ci si rafforza e si scoprono energie interne che ci rendono capaci di progettare agire sognare come non avremmo mai pensato supportare le attività economiche locali lavorando insieme ed in sinergia con l'amministrazione comunale enti ed associazioni proprio come era avvenuto durante il periodo di Natale quello che il 2020 ci ha insegnato è di non darci per vinti non lasciarci sopraffare dalle complessità spiega Etienne Lucarelli assessore al turismo ed è per questo che l'amministrazione comunale ha voluto lanciare due progetti a supporto delle attività economiche per non lasciarle sole anche dopo il periodo natalizio ecco perché abbiamo voluto lanciare un video un video di sensibilizzazione il messaggio di dover lavorare insieme con sinergia in questo momento particolare e lo facciamo anche con due progetti uno sarà un allestimento cittadino il lumino tecnico così vogliamo accendere una luce di speranza nella città che inizierà dal 10 di febbraio fino a Pasqua l'impianto di filodiffusione nella città che rimarrà acceso per il momento fino alla fine di febbraio ed un progetto un contest social si chiamerà Raccontiamo Fano chi vorrà potrà fare delle foto che raccontano i nostri prodotti tipici i nostri prodotti enogastronomici le attività economiche della nostra città quindi degli acquisti e quindi potranno partecipare a questo concorso e vincere anche dei bellissimi premi il messaggio che vogliamo lanciare è continuiamo a comprare locale continuiamo a dare una mano alle nostre attività economiche passiamo insieme questo difficile momento rientreranno nel concorso che partirà il primo febbraio e terminerà domenica 4 aprile le sole foto che riporteranno gli hashtag Racconta Fano e Visit Fano vinceranno le 15 fotografie che raggiungeranno il maggior punteggio ottenuto dalla somma di numero di like numero di commenti e numero di condivisioni il messaggio che vogliamo lanciare anche grazie al video realizzato dal regista Henry Secchiaroli con la collaborazione del Teatro della Fortuna e dell'orchestra sinfonica Rossini oltre a quello del concetto di insieme ha proseguito l'assessore e continuiamo a comprare locale dando una mano alle nostre attività economiche passando insieme questo difficile momento la città di Fano quanto si trova nelle difficoltà ha veramente un carattere particolare perché si unisce fa sinergia e veramente emerge più di altre città ed io credo oltre alle tante cose che anche noi come amministrazione stiamo cercando da fare quindi dialoghi con i varienti lanciare positività in questo momento sia indispensabile per cui non ci dobbiamo fermare al periodo che abbiamo appena attraversato ma dobbiamo farle anche nei mesi successivi che diciamo fanno da preludio ad un'estate che speriamo sia più positiva di questi momenti stiamo uniti aiutiamoci parliamo di bellezza raccontiamo le nostre peculiarità e sosteniamo le nostre attività economiche solo così saremo comunità e rimanete con noi perché tra poco subito dopo il telegiornale trasmetteremo il video integrale promosso dall'assessorato lo sviluppo turistico ed economico e realizzato appunto da regista fanese Henry Secchiaroli il numero dedicato alle vostre segnalazioni 338 49 68 250 buona serata a tutti voi arrivederci a domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti